Uè Rocco Uè ciao, voglio Uè Rocco, ciao Ah, non ho visto il maglietto, va Uè, ma che cazzo ha fatto? Non si apre Oh, mannaggia santa Oh, mannaggia santa, non si apre qua Mamma mia, mamma mia, va Capiamo la chiave di riserva Vediamo il buchetto Che c'è, c'è questo in zappo C'è c'è zappo, mannaggia santa Beh, è arrivato il momento che faccio il fulgato e lasciare la maglietta, va Morse fasce Toh Uè, che cazzo hai queste puttanate qua? Che è il casino Done, fa qualcosa di buono e dimmi che cazzo ci ha messo queste puttanate a chiedere, davanti perché non ti piacciono le fammi? ti infruccite? no che non mi sono infruccite ma chi cazzo ce l'ha messo? chi ce l'ha messo? ce l'ho messo perché? Gabriele ti ha la troppa messa? chi ti mutite? Gabriele mi ha detto vanno a mettere i rocchi e metti la roba lì ma che cazzo ne so perché? che faccio parlare tu dai stessa foto ciao voglio, hai cercato di Gabriele? ti viste? ah va bene Gabriele Gabriele tu cazzo sei? ecchi qua Gabriele si vieni a parlare qua oh Gabriele bene allora dargli un pugno nella pancia ti attenti ai coglioni un po' di rinvento tre secondi, due secondi e anche breve beh Rocchi che vuoi io? Gabriele qua hai parlato dell'armadietta ho visto il Donnell sì 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 l'armadietta come ne importa me l'armadietta? come che te ne importa a te? proprio ne importa a me andunello l'armadietta sì l'ho visto Donnelli quelli di auto non mettono un cazzo ma a me non mi sta buona la questione come è che ha detto guarda che Donnelli è veramente brava ha atterrato pure questo negro qua è veramente forte secondo me andunello Donnelli cini quelli qua secondo me è una grande promessa la box non come te ma c'è il buono dei coach sì l'armadietta è veramente un bravo gioco Gabriele va a stare di puttanate ma come è cascata? la dentro e dentro eh ci va un po' che sta scusa Gabriele qua hai parlato di cose serie comunque eh parliamo di cose serie Andunello è veramente un bravo ragazzo te la testa sulle spalle non come te che non fai niente la mattina e la sera e te resti pure i tuoi 40 anni che è dell'università Gabriele qua hai parlato di cose serie e pure della palestra hai capito? no 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 non se ne parli e tu all'inizio che ti fa spruccare Andunello Sì guarda che luce quando ti accennate io sono Andunello eh non parliamo alla casa ma a seri capito? no guardi non alla casa stasera ah Gabriele eh dimmi mi raccomando vi cacate ciao 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 ciao